La Puglia sfiora ancora una volta la quota zero. Un solo caso registrato nelle ultime 24 ore e nessuna vittima. Lo rende noto il consueto bollettino epidemiologico diramato dalla regione nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, quando sono stati effettuati complessivamente 2.246 tamponi per il coronavirus. L'ultimo tra i nuovi positivi è stato registrato nella provincia di Foggia e fa salire a 4.520 il totale dei contagi pugliesi dall'inizio dell'emergenza tenendo conto di malati, guariti e deceduti. Nella provincia di Barletta-Andreatrani in particolare il numero zero nella casella dei nuovi infetti dura oramai da 24 giorni. Non si aggiorna invece il bilancio delle vittime che restano in tutto 538. Buoni i dati riferiti ai pazienti attualmente positivi che si confermano in ulteriore calo. Al momento sono in tutto 255 rispetto ai 306 di un giorno fa. Sale infine il numero dei pazienti pugliesi che hanno sconfitto il virus del covid-19. Il bollettino di oggi ne riporta complessivamente 3.727, vale a dire 52 guariti in più solo nelle ultime 24 ore.